Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni ha presentato, ha condiviso uno studio che mette in luce qualcosa di abbastanza inquietante. Così Giorgia Meloni attacca il ministro Roberto Speranza e i suoi collaboratori per la campagna vaccinale, per come è stata portata avanti fino a questo momento. In particolare Giorgia Meloni è sconcertata da una ricerca condotta dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. È firmato da Matteo Villa ed evidenzia che se si fosse data priorità agli italiani in età avanzata per la somministrazione del vaccino e non alle categorie professionali, la letalità del coronavirus avrebbe fatto registrare una discesa molto più rapida. Due mesi persi dall'Italia, sentenzi allo studio. La riduzione di letalità che raggiungeremo a fine marzo, meno 21%, l'avremmo potuta raggiungere a inizio febbraio. Tradotto in freddi numeri significa che l'Italia avrebbe potuto contare qualche migliaio di morti per Covid in meno rispetto a quelle attuali. Bastava concentrare la campagna vaccinale sin da subito sulle fasce d'età più anziane, ultra novantenni e persone nella fascia tra 80 e 89 anni e poi via scendere. In tal caso adesso staremmo rapidamente veleggiando verso una riduzione del 54% della mortalità. Ma è così difficile studiare i numeri a giro di conseguenza? Si è chiesta la Meloni. Ma è una domanda che mi faccio anch'io. Perché non hanno fatto così? Non hanno prima vaccinato le persone per età, le categorie professionali le hanno vaccinate dopo. E poi vedevo file di militari che si vaccinavano, ragazzi di 30 anni, 25, in fila per vaccinarsi. E dico sì, beh, sarà categoria a rischio, ma il rischio maggiore ce l'hanno gli ottantenni. Quindi, come dice Giorgio Meloni, ma è così difficile studiare i numeri e agire di conseguenza? E poi rilancia lo studio sui profili social e lo ha commentato nel seguente modo. Ad oggi appena il 15% degli ultraottantenni ha compluto il ciclo vaccinale completo. 15%. Neanche 2 su 10. Secondo lo studio, se la campagna di profilassi si fosse concentrata sugli anziani e sui soggetti fragili, oggi staremmo rapidamente veleggiando verso una riduzione del 54% della letalità. Da sempre diciamo una cosa molto semplice. Per gestire l'epidemia occorre mettere in sicurezza gli italiani. Quello che dice Giorgio Meloni è semplicissimo, imbarazzante per la sua semplicità. E uno dice, ma quello che dice non l'hanno fatto, è così normale? Come? Siamo ancora qui a discutere a chi vaccinare prima, ma veramente non hanno fatto così? Non hanno vaccinato prima gli ultraottantenni ma hanno cominciato a vaccinare le categorie professionali? In realtà, sì, in realtà è proprio così. Quindi è disarmante quello che dice Giorgio Meloni, ma come? È assolutamente normale che vaccini prima gli ultraottantenni, non le categorie professionali. Capisco che hanno vaccinato magari prima i medici, gli infermieri perché lavorano per salvare queste vite. Però io credo che forse prima andavano vaccinati gli ultraottantenni. Voi che ne dite? Prima medici e infermieri o prima ultraottantenni? La probabilità di morire di un medico di un ottantenne è molto più alta quella dell'ottantenne, o forse non è così importante un ottantenne rispetto a chi è più giovane? Mi viene un po' questo dubbio. Intanto Fratelli d'Italia fa un flash mob, una protesta di quelle immobili, davanti alle prefetture con un cartello per la festa del papà che è appena passata. Dice festa del papà non di genitore 2. Così hanno organizzato il partito davanti alle prefetture di molte città italiane, di molte regioni. Durante l'iniziativa i militanti, i simpatizzanti del partito hanno esposto dei cartelli con la scritta papà non genitore 2, per ribadire la contrarietà alla definizione di genitore 1 e genitore 2, al posto di quella di padre e madre. Il governo Conte stava dando seguito alla sostituzione della dicitura genitori a quella di padre e madre nella carta di identità elettronica, del tutto in continuità con una ideologia arcobaleno che vorrebbe snaturare il ruolo di padre e madre minandoli quali perno della famiglia naturale. Fratelli d'Italia sta incalzando il nuovo governo per un atto di discontinuità con quello precedente che ci sembra doveroso, dice così, una nota di fratelli d'Italia. Anch'io sono per il classico, nella carta di identità fin da quando ero piccolo avevo padre e madre, chi è il padre e chi è la madre, genitore 1, genitore 2, genitore 1 passo, genitore 2, mi ricevi? Mi ricevi genitore 2? Genitore 1, genitore 2 passo con le interferenze, no? Sembra quasi una comunicazione militare, genitore 1, genitore 1 passo, mi ricevi? Sì, sono genitore 2, sto atterrando, insomma, genitore 1, genitore 2, non so, magari mettiamo anche genitore 3, genitore 4. E i nonni? E i nonni cosa sarebbero? No? Allora, se abbiamo genitore 1, genitore 2, avevamo nonno, no, aspetta, nonno, non possiamo dire nonno, non si può più dire nonno e nonna, no? Quindi se abbiamo genitore 1, genitore 2, possiamo dire, come lo possiamo definire? Se togliamo la definizione nonno e nonna, come li chiamiamo, il genitore 1 di genitore 1, ecco, dice, guarda, io ho conosciuto genitore 1 di genitore 1, eh sì, ho fatto, e io mi ricordo il genitore 2 che era praticamente dalla parte di genitore 1, no? Il mio genitore 1, dalla sua parte c'era genitore 2, è un po' un un po' un casino, no? Un po' incredibile, no? Dice, ma tu hai conosciuto i tuoi genitori 1, genitori 2, che sono quelli che hanno creato il tuo genitore 1, genitore 2? Mamma mia! Eh, vabbè, insomma, che mondo che ci siamo ridotti, eh? Vabbè, un bel mondo stiamo lasciando ai nostri figli, il mondo di genitore 1 e genitore 2, passo, mi ricevi genitore 1? Vabbè, a parte gli scherzi, io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video se volete tra circa una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie.